Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Arrestato il presunto autore degli incendi ai due ristoranti del centro storico in casa aveva un registratore di cassa, operazione Lampo del commissariato di Fano Da maggioranza e opposizione arrivano reazioni contrastanti all'appello del sindaco di Fano Massimo Seri su un appoggio nella battaglia sul sito di Chiaruccia Ultimi ritocchi e collaudi alla nuova strada dell'interquartieri Parte il conto alla rovescia per l'inaugurazione che potrebbe arrivare prima di Natale A Montemaggiore cittadini che hanno votato no al referendum sulla fusione contro il sindaco Alesi per una lettera firmata e inviata alla Regione Torna dopo più di 70 anni la campana della Torre di San Paterniano Domenica si accende in piazza 20 Settembre l'albero di Natale ricco di effetti speciali e luci laser Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia grazie ad una operazione lampo del commissariato di Fano diretto da Stefano Seretti E' stato arrestato il presunto incendiario che sabato mattina ha dato fuoco a due ristoranti nel centro storico di Fano E' stato arrestato dalla polizia il presunto autore dei due incendi dolosi appiccati nella notte tra il 18 e il 19 novembre nelle due pizzerie di Fano, Bella Napoli e Tiravino in pieno centro storico Si tratta di un cittadino straniero che in queste ore viene interrogato dagli inquirenti La Bella Napoli aveva riportato danni lievi e solo nella parte riguardante la veranda appunto d'origine delle fiamme appiccate alle suppellettili tanto che ha già riaperto i battenti Più significative ed estese le lesioni subite dal Tiravino il quale non ha potuto riaprire per l'inagibilità dei locali completamente invasi dalle conseguenze delle fiamme L'incendiario è un trentenne dell'est Europa che risulta essere disoccupato Gli agenti del commissariato di Fano guidati dal dirigente Stefano Seretti lo hanno bloccato questo pomeriggio in città dopo un'indagine Lampo L'uomo avrebbe compiuto il doppio ride da solo ma l'inchiesta coordinata dalla procura di Pesaro prosegue per accertare l'esistenza di eventuali complici o mandanti e i motivi all'origine degli incendi Ecco qui le notizie su questo importante arresto che riportano certamente un po' di serenità in città visto che tanta preoccupazione aveva generato un episodio come questo e per tutti i dettagli domani mattina c'è una conferenza alle 10 nella questura di Pesaro conferenza che Fano TV trasmetterà in diretta sul canale 17 su internet all'indirizzo occhiolanotizia.it e in diretta anche sulla nostra pagina Facebook E adesso parliamo invece di sanità perché a 24 ore di distanza dall'appello lanciato dal sindaco di Fano Massimo Seri ad aiutarlo in qualche modo a perurare la causa del sito di Chiaruccia sono arrivate le reazioni politiche che a sentirle sono piuttosto contrastanti Le dichiarazioni del sindaco Seri dopo la palese indicazione espressa in un comunicato da Ceriscioli sul sito di Muraglia in cui chiamava tutte le forze politiche raccolta in nome di Chiaruccia come era immaginabile ha suscitato le diverse reazioni sia a supporto della sua crociata come anche diametralmente opposte Una cosa buona lo sbilanciamento del governatore delle Marche giunta con estrema tempestività lo ha ottenuto e cioè quello di compattare gran parte del consiglio comunale attorno al sindaco anche se con diverse sfumature o invece chi vuole lui e la maggioranza addirittura fuori dal palazzo dal Partito Democratico di Fano si rincassa un pieno sostegno Come gruppo consigliare del Partito Democratico di Fano esprimiamo la nostra vicinanza e completa adesione al comunicato che ha diramato ieri il sindaco di Fano Massimo Seri Siamo assolutamente convinti che l'area pubblica individuata per il sito del nuovo ospedale possa essere assolutamente Chiaruccia un sito che presenta delle qualità che gli altri siti al momento non propongono questa accelerazione sia nella convocazione dell'area vasta sia che anche nella dichiarazione del sito di Muraglia ci coglie di sorpresa è inutile negarlo quindi speriamo che al più presto venga riconvocata l'Assemblea di Aria Vasta in cui sarà possibile e si darà l'opportunità ai sindaci di esprimere in maniera palese la propria preferenza sul sito Sostegno ma con riserva e forti dubbi da parte dell'ex sindaco Aguzzi Innanzitutto voglio dire che Seri purtroppo è in enorme ritardo su questa battaglia lui per i primi due anni del suo mandato non ha mai parlato di sanità tant'è che non è riuscito a portare nessun sindaco sulle sue posizioni finora qui il vero problema per la sanità di Fano e il noto ospedale ma anche per altre questioni è il partito democratico Seri continua a dire che il partito democratico di Fano è con lui ma il partito democratico di Fano non conta nulla qui decide Ricci il sindaco di Pesaro Ceriscioli il presidente della regione l'unica persona del PD di Fano che può contare per davvero se vuole è Renato Minardi che è vice presidente del consiglio regionale oltre ad essere in consiglio a Fano ed è il vero padre padrone del PD di Fano il problema è che Minardi non ha mai mosso un dito a favore dell'ospedale di Fano lui è d'accordo con Ceriscioli e con Ricci perché l'ospedale si faccia a Pesaro non ha mai fatto una cosa diversa allora se Seri mi chiede di fare una battaglia insieme io gli dico certo che la faccio una battaglia insieme però tu dimostrami che hai con te altri sindaci dimostrami che hai con te quelli che contano dentro il PD e allora insieme possiamo lavorare e anche io ti darò una mano se invece continuerai come hai fatto finora a non avere altri con te a non avere speranze nella tua battaglia io ti chiedo così come ti sei preso la responsabilità di portare il PD al governo di questa città oggi prenditi la responsabilità di mandar via il PD dal governo di questa città lui dovrebbe prendere i tre consiglieri regionali di questo territorio Renato Minardi Rapa e Federico Talecchia di Mondavio sono tutti e tre della maggioranza due del PD e uno del partito stesso di Seri Rapa che è socialista e in regione vanno da Ceriscioli gli dicono se tu Ceriscioli chiudi l'ospedale di Fano noi non ti manteniamo più la maggioranza in regione è ora che lo fanno se vogliono dimostrare di essere da parte dei cittadini se invece vogliono starli solo per le poltrone ecco è ora che Seri li mandi via chi invece vuole ribaltare il tavolo con tutte le carte per un reset alla grillo i fanno a 5 stelle beh è un appello tardivo sicuramente per una battaglia già persa quasi una proposta ridicola cioè il sindaco ci aspetta che l'opposizione adesso lo appoggi ormai quando appunto i giochi sono fatti se veramente il nostro sindaco e la giunta avessero il minimo di dignità da domani rassegnerebbero tutti le dimissioni per dare di nuovo voce ai cittadini affinché veramente questa situazione possa essere analizzata sui fatti con le dimissioni Seri si libererebbe di un fardello che è il PD che l'ha portato a queste gravissime conseguenze per la sanità siccome siamo la terza città delle Marche sicuramente il peso di una nostra nuova strategia politica potrebbe portare sicuramente anzi porterà sicuramente un effetto molto importante anche all'interno della stessa provincia perché io scommetterei sul fatto che se Fano si fa capofila di tutti i comuni dell'entroterra della vallata per la difesa degli ospedali esistenti per la loro riorganizzazione e potenziamento non avrebbe solamente tutti i sindaci della sua parte il sindaco ma avrebbe tutti i cittadini della sua parte E ancora pochi giorni e poi la nuova strada dell'interquartieri sarà aperta al traffico delle auto e c'è attesa per vedere quest'opera che è partita più di 13 anni fa Addirittura d'arrivo per l'opera urbanistica più importante dell'ultimo decennio per la città di Fano sia dal punto di vista della mobilità che da quello finanziario stiamo parlando dell'interquartieri 3 milioni e 300 mila euro di base d'asta per complessivi 8 milioni di euro di spesa finale se consideriamo la corposa componente degli espropri l'opera partita nel 2013 e nella fase iniziale ha subito causa il pato di stabilità una velocità di avanzamento lavori un po' a corrente alternata e successive varianti al progetto in corso d'opera hanno portato la consegna dell'interquartieri ai giorni nostri registrando comunque un forte impulso in avanti negli ultimi 24 mesi vuoi decreto sblocca Italia vuoi azione sinergica dell'amministrazione Siamo a buon punto i lavori sono pressoché finiti sono in corso in questi giorni proprio in questi giorni con l'audo delle strutture che tengono in piedi i pannelli e quindi poi seguiranno i collaudi delle fogne i collaudi e i provini che si fanno di carotaggio per verificare che l'asfalto sia stato fatto bene e quindi il tecnico collaudatore ha un po' di tempo per concludere dopo aver fatto questa ispezione per concludere il collaudo non appena ovviamente la ditta avrà consegnato le opere certificate di opere finite il collaudatore avrà verificato che tutto bene saremo pronti a riaprire questa nuova arteria della città per cui non appena sarà possibile l'apriremo senza dubbio un minuto dopo che il tecnico la direzione lavori mi dirà che i lavori sono terminati quindi rispetto anche alle dietrologie consentite in questi tempi no, in realtà i lavori ancora stanno proseguendo sono piccoli, quasi invisibili però i collaudi sono in corso e quindi si devono fare è necessario perché un'opera così costosa tanto attesa necessita di prendere tutti diciamo i certificati a finire in maniera tale che l'opera possiamo essere certi sia come dire completata nel miglior modo possibile l'assessore non si sbilancia sulla data per il taglio del nastro anche se leggendo tra le righe terminati i collaudi e messo tutto nero su bianco il gioco è fatto e hai visto mai che magari per agevolare la consegna dei doni ai fanesi non si apra giusto per Babbo Natale e le sue renne? La chicca alla fine delle renne ci sta Allora, adesso invece andiamo a Monte Maggiore al Metauro perché i cittadini che hanno votato no al referendum sulla fusione con Saltare e Serungarina sono adesso sul piede di guerra contro il loro sindaco Alberto Alesi Reo di aver firmato e inviato insieme agli altri due colleghi sindaci una lettera alla regione aveva dichiarato senza mezzi termini che in caso di vittoria del no non avrebbe potuto chiedere alla regione di andare avanti con la procedura di fusione perché ovviamente io non me la sento di dire alla regione di andare avanti e di proseguire Il sindaco di Monte Maggiore Alberto Alesi su questo passaggio contenuto anche nell'accordo firmato dai tre comuni non aveva dubbi e così è stato una schiacciante preponderanza dei no a Monte Maggiore rispetto alla vittoria del sì di Serungarina e Saltara facevano dormire sonni tranquilli ai cittadini facevano perché una lettera a firma dei tre sindaci inviati alla regione ha mandato consiglieri di opposizioni e comitato del no su tutte le furie A Monte Maggiore stiamo vivendo una situazione paradossale in cui dopo il referendum del 13 novembre quindi l'esito elettorale che ha portato un secco no all'ipotesi di fusione abbiamo da una parte l'amministrazione che ufficialmente non ha ancora preso posizione e tentenna sul da farsi Sta circolando una lettera che vi risulti dove c'è un accordo che va un po' incontro quello che aveva detto il sindaco Alesi Sì questa lettera l'abbiamo vista sui social network ecco gira questa lettera questa comunicazione fatta dai tre sindaci al presidente della regione Marche in cui si chiede di procedere insomma nella valutazione di competenza della regione ecco se questo fatto per noi è grave nel senso che a nostro giudizio soprattutto nel comune di Monte Maggiore era necessario che il sindaco prima di confrontarsi con gli altri sindaci prendere decisioni in merito quantomeno consultarsi il consiglio comunale che è l'organo rappresentativo di tutti i cittadini inoltre l'esito del referendum da un esito opposto a quello che è contenuto in questa missiva inviata al presidente della regione quindi appare una scelta affrettata e quantomeno discutibile per non usare parole più pesanti ecco di essere rivista assolutamente rivista voi siete stati in regione questa mattina cosa siete andati a fare e con chi avete parlato noi stiamo cercando di percorrere tutte le strade possibili nel senso che ci saremo aspettati dal comune la convocazione del consiglio e la presa d'atto del voto e quindi l'interruzione del procedimento vedendo che questo non avviene siamo andati in regione cercando di sensibilizzare i consiglieri regionali su questa problematica che si è creata nel comune di Montemaggiore diciamo che l'incontro è stato positivo nel senso che abbiamo incontrato tutti i capigruppo della regione Marche nella conferenza e abbiamo potuto esprimere quelle che sono le nostre valutazioni e quelle che sono le nostre perplessità oltre al fatto ripeto che c'erano si partiva da delle basi su cui noi facevamo affidamento cioè le promesse che in caso anche di un solo no questo processo sarebbe stato subito interrotto quindi viene anche un po' minata la fiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni in genere perché oggi questa fiducia è sempre meno ma se ci comportano così le istituzioni poi diminuirà e non aumenterà quindi siamo andati a far presente questa situazione e a tal proposito c'è da sottolineare un incontro chiesto in regione dal consigliere di area popolare Mirco Carloni allora la vicenda questa questa mattina una delegazione numerosa di Montemaggiore è stata ricevuta dai capigruppo in consiglio regionale per rappresentare la loro posizione che è molto ferma e chiedono di sospendere il processo di fusione personalmente ritengo che il 65% degli elettori di Montemaggiore avendo detto no non può essere ignorato infatti la legge dice che si possono creare nuovi comuni sentite le popolazioni interessate è chiaro che un comune che si esprime in modo così forte in modo contrario ad una fusione non può non essere tenuto in considerazione perché altrimenti voglio dire non avrebbe senso fare queste fusioni se non passa per la volontà popolare e anche per la democrazia che in questo caso ha evidentemente in due comuni motivato la fusione e in uno invece è stata contraria quindi personalmente ritengo che debba essere fatta una riflessione e procedono i due comuni favorevoli e Montemaggiore venga stralciato questa è la mia richiesta che farò lunedì in commissione affari istituzionali dove verrà ascoltata ancora una delegazione di Montemaggiore quella che adesso invece vi mostriamo è la campana della misericordia che va a completare il concerto di 5 campane sul campanile di San Paterniano a Fano sulla torre del forse probabilmente l'unica torre la più bella torre che abbiamo in città del peso di 7 quintali e 30 kg è stata fusa in bronzo da una ditta di Vittorio Veneto la sua nota musicale è un fa la nuova campana riporta lo stema della diocese di Fano il nome del vescovo Armando Trasarti quello del provinciale dei frati Cappuccini padre Marzio Calletti e quello di Don Marco Polverari che ha finanziato l'opera sciogliendo un voto fatto a San Paterniano accanto alla data del 13 novembre 2016 c'è anche il nome del sindaco della città Massimo Seri e nonostante eventi gradi che fanno pensare a tutto tranne che tra poco sarà Natale domenica prossima in piazza 20 settembre si accenderà si accenderà l'albero di Natale che tanto successo ha ottenuto lo scorso anno ce ne siamo accorti già da un po' di tempo su network nazionali e nelle pubblicità locali il Natale sta bussando prepotentemente alle nostre porte d'altronde calendario la mano fra 33 giorni esatti è Natale ed anche la macchina natalizia è sui blocchi di partenza e aspetta solo lo start per sviluppare tutto il suo potenziale di spettacolare coinvolgimento di grandi e piccini nel caldo abbraccio di iniziative location borghi e mercatini e tutto il circo degli eventi sparsi per tutta la provincia che si sta mettendo in modo in queste ore l'albero anno scorso l'albero di Natale più discusso tutti se lo ricordano fu quello artistico della città di Fano che attirò migliaia di persone in piazza 20 settembre anche quest'anno sarà lui il fulcro del Natale più presentato dalla Proloco di Fano quindi innanzitutto domenica 27 ore 18 una grande inaugurazione che porterà all'accensione dell'albero quindi qui invito tutti e aspetto tutti quanti a vedere questo bellissimo momento poi tutti i sabati e le domeniche dall'albero partirà un'animazione fatta di un'installazione LED in diversi palazzi della piazza novità piazza Costanzi dove ci sarà un bellissimo bosco urbano con un'arena fantastica che campeggerà proprio davanti alla chiesa di Sant'Antonio via Garibaldi con la casetta per portare le letterine per tutti i bambini a Babbo Natale proprio davanti alle poste italiane avremo il cielo di stelle in piazza 20 settembre avremo il bosco illuminato nei giardini amiani così come le piramidi stilizzate campeggeranno su Porta Giulia in tutto questo un corso che sarà animato da una bellissima filodiffusione soprattutto perché porterà proprio l'atmosfera natalizia quindi uno sforzo veramente importante per costruire al meglio questo Natale appuntamento quindi alle 18 di domenica prossima per la spettacolare accensione ed ammirare il cielo di stelle sopra la piazza quest'anno saranno ben 40 e non 12 come l'anno scorso ed ascoltare i cori e le musiche che quest'anno grazie alla filodiffusione invaderanno in maniera piacevole il cuore di tutta la città di Fano cerchiamo di migliorarci sempre di più e al fine di sopportare tutte le attività produttive e agliettare i cittadini che vengono in centro nella città di trovare delle belle iniziative quindi è un programma ricco di eventi regaliamo sia agli operatori economici che alla gente e attirare anche il turismo quindi una promozione anche per le attività turistiche quindi non solo operatori ma anche albergatori anche per oggi è tutto grazie per la vostra attenzione arrivederci grazie per la vostra